Carissimi amici, amatissimi ergonauti lungo le vie della conoscenza e dello spirito, ben ritrovati sul nostro canale, su Un Fuoco Sacro. L'argomento di questo dialogo è un argomento che nasce da una mia passione. Chi mi segue anche su quella grande vetrina di talenti inespressi, di compravendite personali, di fotoprofilo taroccate, che è faccialibro, sa che una delle mie grandi passioni è rappresentata, oltre dal gioco degli scacchi, dalle camminate e dalle escursioni in montagna. Amo molto camminare in montagna. E questo per tutta una serie di motivi. Da un lato sicuramente per allontanarmi dalla melassa untuosa e psichica della società contemporanea umana, dall'altro per mettere alla prova il mio meccanismo, e dall'altro ancora fondamentalmente per rimanere solo con me stesso e raccogliere tutta una serie di riflessioni, di immagini, di anfratti memonici legati ai luoghi carichi di storia, di vita, di natura che sto visitando. Non vi nego che spesso e volentieri, mentre sono impegnato in queste mie lunghe escursioni, e sarebbe molto bello un giorno organizzarne una tutti assieme, medito, prego, rifletto. Cerco anche di dare una completezza intellettuale e spirituale a questo mio camminare, a questo mio arrampicarmi, a questo mio orientarmi su queste montagne. Questo faccio. Bene, detto tutto ciò, un giorno mi ritrovo a un crocevia, da dove si diramavano vari sentieri, e incontro un signore più avanti di me con gli anni. Io sono un po' avanti, questo signore era più avanti di me. Termino eufemistico per dire era un po' vecchio. Ci sediamo. Il bello della montagna è che abbatte ogni differenza, ogni resistenza, ogni retrosia, retrosia, in quanto ci riconosciamo nel comune amore per la montagna e nella comune fatica di camminare, e quindi siamo, potremmo dire, fratelli d'opera, e ci sediamo e iniziamo a parlare. Ovviamente prima da dove l'uno arrivava, da dove l'altro stava andando, da dove l'altro a sua volta si recava, poi parliamo di quelli che potevano essere determinati sentieri o zone sconosciute l'u all'altro. Questo è. Ad un tratto io non posso fare a meno di notare il vario pinto e variegato, il picaro bastone da montagna che aveva questo signore. Dare un bastone, spero di ritrovare la foto e quindi la metto in descrizione di questo dialogo, è un bastone molto, molto elaborato, perché vi erano delle parti in metallo e vi erano incise anche scritte e date. Io lo guardo questo bastone, lui nota che lo sto guardando, io non posso fare a meno che chiederne alcune spiegazioni. Lui mi dice che lo ha ovviamente costruito da solo, che alcuni di questi pezzi di metallo erano riferiti a delle piccozze, a degli strumenti che lo avevano accompagnato in precedenza e quindi erano ancora con lui. Che determinate date si riferivano a quando lui aveva raggiunto determinate vette per lui significative o quando aveva fatto determinati incontri significativi e a un certo punto io noto una scritta che fa corre di più uno zoppo di uno che non ha voglia. È bellissima questa frase e io gli chiedo il significato della medesima. Lui sorride e mi fa Sai Filippo ovviamente ci eravamo anche scambiati nomi Sai Filippo tanto tempo fa tanti anni fa un giorno decisi di andare in montagna con alcuni conoscenti di questi conoscenti vi era una persona che poverina aveva subito un incidente e quindi camminava deambulava male e aveva i propri tempi aveva le proprie movidenze aveva le proprie cadenze è ovvio questo perché un piede era rimasto sacrificato era rimasto offeso e quindi era limitata. Fiera però questa persona era già venuta a camminare a fare delle escursioni ovviamente non poteva riempicarsi però la camminata la faceva era spregativo questo metto come piacciono a me non è quelli non piacciono Fiera è anche un altro un altro conoscente un conoscente cittadino un conoscente che so io un direttore di un consorzio edile ecco fondamentalmente un qualche cosa del genere uno seduto sulla poltrona abituato fondamentalmente a relazionarsi con A B C D E F G questa è l'ora io faccio questo io do questo io programmo questo io programmo quest'altro che è montagna non vi era mai stato a un certo punto ci si ritrova sul luogo di partenza e questo qui mi viene a dire ma tu guarda ma come faremo a camminare come faremo a arrivare dove dobbiamo arrivare ma non per dire nulla ma c'è questa persona qua che ha dei problemi guarda io per me va benissimo però iniziamo a camminare il terreno inizia a farsi in salita inizia a essere scivoloso inizia a essere accidentato ci sono delle buche il sole inizia a battere i chilometri iniziano a sommersi ai chilometri e chi è che rallenta il passo? rallenta il passo proprio colui che è apparentemente sano che è apparentemente intero aveva avuto modo di ridire sulla persona apparentemente offesa apparentemente limitata anche quando questo tizio ebbe in qualche modo a rallentare il passo questo tizio che so io possiamo chiamare Giancarlo io gli dissi caro Giancarlo corre più uno zoppo di uno che non c'ha voglia allora amici miei in questa storia che a me mi ha colpito tantissimo vi è la centralità di come noi dobbiamo essere predisposti al lavoro interiore perché non conta minimamente ciò che ipoteticamente abbiamo a disposizione non conta il nostro fisico potenziale non conta la nostra mente potenziale non conta il tempo potenziale che abbiamo a disposizione non conta il novero delle letture delle informazioni delle scuole che noi frequentiamo non contano le capitazioni conta esclusivamente la nostra volontà di opera che è una volontà che trova radicamento in ciò che noi abbiamo e in ciò che noi mettiamo a disposizione consapevoli che innanzi ad un impedimento noi dobbiamo dire grazie perché lo stesso impedimento che sia una limitatezza fisica che sia una limitatezza temporale che sia una qualsiasi altra limitatezza è una fonte di lavoro perché da un lato ci impone quello sforzo necessario per andare oltre per gettare il cuore oltre l'ostacolo e dall'altro ci impone tutta una serie di riflessioni sul come sul quando e sul perché questo l'imitazione si è manifestata questo è ed è per questo che corre più uno zoppo di uno che un c'ha voglia ed è per questo che noi vediamo continuamente persone che saltano da una fratellanza all'altra da un ordine all'altro da da uno studio all'altro da una pratica all'altra che sembrano delle cavallette dei grilli impazziti perché non hanno costanza non hanno come diceva la mia vecchia zia fermezza la fermezza di rimanere lì e di comprendere che i turbamenti esteriori non sono niente rispetto ai turbamenti alle inrequietezze interiori questo è e nient'altro ed è per questo se voi ci pensate bene che in ogni percorso serio strutturato e tradizionale si inizia sempre con qualcosa di estremamente ripetitivo di estremamente monotono monotono e ciò viene fatto per saggiare da un lato e per sviluppare dall'altro la volontà è facile amici miei ma è fin troppo facile fare qualche giochettino di prestigio iniziale per affascinare la mente io ho i rituali essenici io ho gli arcana arcanorum che mi sono stati trasmessi da dal successore di Cagliostro io ho io ho i veri rituali dell'ordine templare io ho questo io ho quest'altro e poi sei un disgraziato sei una foglia al vento d'autunno sospesa sull'albero che attende il soffio del vento per turbinare di qua o di là e poi finire a terra e marcire inesorabilmente non è quello non è solamente quello ma è fondamentalmente la volontà ferrea granitica di volgere il nostro sguardo dentro di noi questo è ed è per questo che io vi ripeto sempre e ripeterò sempre non demordete mai innanzi alle prime difficoltà che incontrate lungo il percorso aspettate un attimino prima di dire questo strumento non fa per me trattenete il fiato e legate la lingua prima di dire io io sono capace io non sono degno certe volte l'umiltà è il vestito da sera della pigrizia amici miei dell'accidia impegniamoci ma non è che lo dico a voi lo dico anche a me crediamo fortemente in ciò che facciamo e i risultati arriveranno perché non conta la posizione di partenza conta il punto di arrivo e nel mezzo c'è lo sforzo che dobbiamo compiere grazie alla nostra volontà ed è per questo che correrà sempre più uno zoppo rispetto ad uno che non c'ha voglia salve a tutti amici miei grazie